ciao paola che stai a fare qua? sono a distribuire i volantini per le elezioni del presidente del quartiere non devi fare niente prende solo un volantino ti posso lasciare un volantino per le elezioni del presidente? non ti preoccupare paola vabbè tu prendila non fai niente lo sai che ci stanno le elezioni la settimana prossima? ti lascio qualche volantino così lo distribuisci ma chi è questa? eh so io non si vede ma già non te conosce nessuno metti una foto da quando eri ragazzita? quella è l'unica foto che c'ho ci mette Mirko non ci metti Mirko odio Mirko Boccu eh si inveto l'ora ma guarda che non è che lo scelgo io il presidente si sei candida poi Mirko guarda che è una cosa seria eh vabbè pa ce l'hai pensato è molto amore Mirko chiamami ti serve un passaggio Boccu? no grazie paio sei sicuro? si tranquilla che è larga una favola